la persona accanto a te io non morirò di infarto io non morirò di tumore io non morirò di nessuna malattia non ho paura della malattia perché c'è un proposito divino nella mia vita che io sono chiamato ad adempiere c'è un proposito divino nella mia vita che io sono chiamato ad adempiere la sorella maria oggi si è svegliata con forti dolori addominale ha avuto molti dolori allo stomaco oggi è andata a casa e talmente erano forti questi dolori che è collassata sul divano ha acceso la televisione c'erano le trasmissioni della ciesa che erano in diretta televisiva in quel momento e in maniera soprannaturale tu nel video mentre stavi praticando hai detto che c'era una persona che aveva problemi allo stomaco e lei in quello stesso momento ha ricevuto che cosa? Niente il miracolo perché mi saltavo per la casa sono amore è scompassato chi ti ha guarito? è gestito veniamo a te liberi danziamo coprici col tuo immenso amor portaci più in profondità perché? perché siamo figli del grande osso oh Dio sempre sei con noi sussurrando restaurazione fai di noi la tua abitazione siamo tuoi oggi la chiesa grida apre i cieli con fonte esaltato sei oh Dio rompi le tenebre è brilli gloria oggi la chiesa grida apre i cieli con fonte esaltato sei oh Dio rompi le tenebre calvo assolutiva alleluia quindi maggiore rivelazione sull'unzione per avere maggiore manifestazione di miracoli alleluia quindi maggiore rivelazione sull'unzione per avere maggiore rivelazione manifestazione di miracoli amen la bibbia dice che noi siamo re sacerdoti e profeti amen ora dobbiamo comprendere una cosa molto importante cosa fanno i re governano amen tu se tu sei un re o una regina tu sei destinato o destinata a regnare amen i re hanno un regno fanno parte del regno di dio gesù ha detto che lui è il re dei re noi facciamo parte del suo regno siamo destinati a governare a regnare amen cosa fanno i profeti i profeti parlano la parola di dio dichiarano le cose come dio le dichiara e sapete oggi nella nostra città nella nostra nazione c'è bisogno che non venga dichiarata incredulità paura dubbi perché per secoli sono state dichiarate queste opere tenebrose ma oggi c'è bisogno che uomini e donne ripiene dello spirito santo i figli di dio possono dichiarare come profeti quella che è la parola dell'eterno amen i profeti non dicono forse i profeti dicono così dice l'eterno è una certezza è una certezza dillo è una certezza amen e i sacerdoti cosa fanno i sacerdoti adorano offrendo sacrifici spirituali all'eterno amen cosa fanno i sacerdoti adorano dio è lì dio dei miracoli noi siamo alla ricerca di dio e dio manifesta i miracoli amen noi amiamo dio e dio si manifesta nella chiesa dio si manifesta nel nostro mezzo come stamattina sono successi tanti tanti miracoli ma dio mi ha detto una cosa il problema che voi avete è l'incredulità non ci credete non ci credete non ci credete quando viene rilasciata la parola di dio avete più fiducia in quello che vi dicono le carte che in quello che vi dice la bibbia dice ma sta scritto che io sono malato gesù ha detto che per le sue lividure tu sei stato guarito amen questa è la verità questo è quello che tu devi afferrare nella tua vita quello che Gesù ha detto è più importante come ti senti o quello che Gesù ha detto è più importante quello che pensi tu o quello che Gesù dice amen è più importante il sintomo che hai nel tuo corpo o quello che Gesù ha detto e l'apostolo Pietro ha ripetuto e l'apostolo Pietro ha ripetuto per le sue lividure voi siete stati non dice sarete dice siete stati parla al passato siete stati guariti non dice sarete guariti ma dice che sei già stato già stata già stata guarita amen dillo io sono guarita io salute perché il mio Dio è colui che mi ha guarito e mi dà salute nel mio corpo amen quindi siamo re sacerdoti e profeti ma per tutti questo è per tutti quanti noi perché ognuno di noi per operare come re sacerdoti e profeti abbiamo bisogno di unzione di l'unzione cos'è l'unzione? è la potenza soprannaturale di Dio non è abilità umana non è capacità umana è soprannaturale soprannaturale è la potenza soprannaturale dell'Ittio onnipotente che viene e manifesta la sua potenza amen l'unzione è sostanza tu puoi sentire olio sul tuo corpo puoi sentire olio su di te Dio riversa la sua unzione amen come scritto in ebrei 11 quando parla della fede or la fede è certezza nel testo originale la fede è sostanza amen dillo la fede è una sostanza si sente si vede si sperimenta nel mondo spirituale non la vedi con gli occhi naturali ma la vedi e la senti e la sperimenti con gli occhi dello spirito perché è una sostanza divina è una sostanza sovrannaturale amen ora parlandovi dell'unzione voglio parlarvi di brevemente di un re di Israele Davide dite Davide Davide fu il secondo re di Israele Davide fu unto per ben tre volte sapete anche Samuele o scusate Saul il primo re di Israele fu unto però ci fu una differenza tra Davide e Saul sapete Davide venne unto con un corno attraverso un corno d'olio che era un corno di montone che adesso vi spiego mentre Saul venne unto attraverso un bicchierino cioè quello che conteneva un corno era molto di più di quello che conteneva un bicchiere amen quindi l'unzione che c'era dentro al bicchiere giusto giusto gli coprì la testa a il re Saul ma quando venne versata l'unzione su Davide e quindi l'intero corno attraversò tutto il suo corpo dillo attraversò tutto il suo corpo spegnete i telefonini amen dillo di nuovo attraversò tutto il suo corpo quindi per trattare questo argomento possiamo parlare come esempio dicevamo Davide Davide ebbe tre tipi di unzione entrambi le tre unzioni erano unzioni regali perché esiste l'unzione sacerdotale l'unzione regale e l'unzione del lebroso che tutti i credenti hanno ma Davide fu unto oltre che con quelle unzioni tutte queste tre unzioni erano unzioni regali Samuele lo unse in occasione quando lo andò a visitare a casa non so se conoscete la storia non so se conoscete la Bibbia lì la trovate la storia amen leggete la Bibbia dire alla persona accanto a te divorati la Bibbia divorati la parola di Dio non essere ignorante diglielo non essere ignorante e diteglielo divoratela perché la Bibbia è scritta in Osea che il popolo muore per ignoranza se tu sei ignorante tu muori per mancanza di conoscenza cioè ignoranza amen non la deve conoscere uno nella tua famiglia è sufficiente la devi conoscere tu amen quindi se voi leggete in Samuele si parla dell'unzione che ricevette Davide la prima unzione e la prima volta fu unto sui suoi fratelli conoscete la storia alcuni ma vennero chiamati da Samuele Samuele andò a casa di Sai padre di Davide e quando vide i suoi fratelli i figli di Sai papà di Samuele scusate papà di Davide Dio disse a quello che era il più robusto più forte disse Dio no dice ma pareva chiesto però signore secondo terzo quarto e così via dice ma sono tutti qua i tuoi figli perché non può essere che Dio mi ha mandato in un posto sbagliato ha detto no c'è l'ultimo che sta a pascolare le pecore e disse fallo venire subito perché non ci sederemo non mangeremo non ci metteremo a tavola se non viene lui appena che entrò dalla porta Dio gli disse questo è il futuro re di Israele questo fu la prima volta che fu unto sui suoi fratelli io ringrazio Dio perché si è usato del fratello Ugo appunto perché io sono fatto un concorso nelle forze armate questo concorso purtroppo non è andato nel migliorire dei modi però Dio è usato di un avvocato che è andato contro questo concorso e quindi ha messo la sua parola contro un ministero in questa cosa il ministero dell'interno quindi ringraziando a Dio veramente il primo ricorso è andato male il secondo dopo tanti digiuni preghiere quando il primo è andato male io sono caduto e come dice la parola quando uno cade l'altro lo rialza ci siamo rialzati abbiamo digiunato abbiamo pregato abbiamo fatto intercessione non ci siamo mai bloccati ci siamo alzati e grazie a Dio abbiamo avuto la vittoria l'udienza è giorno 10 e mercoledì scorso abbiamo avuto già la conferma che è stato vinto quindi ora aspetto solo la conferma per le visite Alleluia volevo si era un po' meglio la cosa un po' meglio la cosa martedì siamo venuti qui al tabernacolo mio marito si è messo sulla cartina di Roma perché è lì che c'è il consiglio di Stato e si è iniziato a pregare noi l'udienza la risposta la dovevamo sapere il 10 novembre in un modo miracoloso perché non cioè il 10 si doveva sapere prima non si poteva sapere noi torniamo a casa il giorno dopo del tabernacolo e riceviamo leggiamo su facebook che il consiglio di Stato smentisce il Tardellazzo accettando tutti le prove fisiche e un altro miracolo è questo che in circa coloro che dovevano vincere tutti erano circa 8000 persone ora lui doveva andare a fare le prove fisiche con 8000 persone ma Dio è stato fedele perché hanno accettato solo i ricorrenti che sono circa 200-300 persone la seconda volta su Giuda fu unto cioè una delle 12 tribù di Israele lui era della tribù di Giuda e venne unto su quella tribù e la terza volta venne unto come re su tutto Israele amèn dite su tutto Israele ma ebbe anche altro tipo di unzione ebbe unzione profetica se voi leggete salmi Davide parlava profeticamente di quello che doveva succedere amèn ora questo è importante per il team della Lode imparate da Davide amèn che senza unzione non si può fare niente ma non su fu unto soltanto come unzione profetica Davide fu unto pure come cantore per scrivere i salmi che lui ha scritto c'è stato bisogno dell'unzione di Dio dell'intervento soprannaturale per avere l'ispirazione di quei salmi amèn chi li ha ispirati salmi a Davide Dio gli ha ispirati i canti perché perché Davide era unto come cantore come menestrello del Signore lui amava stare alla presenza di Dio lodare e adorare il Re il Re dei Re amèn ora si racconta un episodio nella vita di Davide che un giorno si fece portare l'Ephod era un'attrezzatura che lui ha che usavano per avere risposte divine e infatti consultò l'Eterno in primo Samuele primo cronache 14 verso 10 allora Davide consultò Dio dicendo devo io salire come contro i filistei me li darai nelle tue mani vedete anche se lui era un campione era un vincitore aveva conquistato oltre che con le fiere dei campi leono e orso che aveva messo in fuga aveva sconfitto il gigante filistei amèn Golia aveva vinto battaglie però sapete qual è la cosa straordinaria che noi dobbiamo imparare non dava niente per scontato non dare mai niente per scontato ogni giorno impara a dipendere dalla presenza di Dio se dai le cose per scontate Dio non si muoverà perché ti stai muovendo nelle tue forze nella tua sapienza nella tua intelligenza ma non nella potenza di Dio ora lui aveva avuto tante vittorie eppure ogni volta consultava l'Eterno signore andrò contro i filistei me le darai nelle mani l'Eterno gli rispose sali io le darò nelle tue mani cosa ci fu un intervento divino una dipendenza totale da Dio amen oggi i cristiani sapete come vogliono vivere vivendosi la loro vita e forse qualche volta dipendendo da Dio questo è il cristiano più deluso più confuso più depresso di tutta la storia e di tutti i cristiani perché non dipendono ogni giorno dalla presenza di Dio tu hai bisogno dilla alla persona accanto a te tu hai bisogno di dipendere dalla presenza di Dio tutti i giorni tutti i giorni ogni momento per ogni decisione che devi fare devi dipendere da lui da Davide noi possiamo imparare come muoversi come vivere nell'unzione cioè cos'è l'unzione è la potenza soprannaturale di Dio non è la tua capacità né la tua abilità naturale amén Gesù è re profeta e sacerdote amén però qui c'è una R maiuscola una P maiuscola e una S maiuscola amén lui è il re lui è il profeta lui è il sacerdote che parla la parola di Dio è dichiara la volontà di Dio quanti di voi siete figli di Dio lo sapete che siete eredi eredi di Dio coeredi di Cristo qual è la vostra eredità tu sei un re una regina tu sei un profeta tu sei un sacerdote questa è la tua eredità come figlio di Dio dillo questa è la mia eredità come figlio di Dio amén dillo questa è la mia eredità re profeta sacerdote primo Samuele capitolo 16 verso 13 qui è quando Davide viene unto impariamo qualcosa di importante dillo sto qui per imparare stamattina amén allora Samuele prese il corno dell'olio prima di ogni altra cosa da dove prese questo corno da un animale che si chiamava montone ma precisamente da un animale che era stato sacrificato sono una sorella autorivelazioni se non c'è sacrificio non scende unzione dillo se non c'è sacrificio non scende unzione non da un animale qualsiasi ma da un animale da un montone che era stato offerto a Dio in sacrificio ora dalle corna del montone venivano anche fatti strumenti musicali non so se dico bene lo shofar quello che si sente non so se c'è uno shofar amén e dal un corno più piccolo perché questo era enorme veniva usato per l'unzione all'interno di questo corno mettevano olio questo è come fu unto Davide ora voi immaginate la rivelazione potente attraverso il sacrificio vedete un montone viene sacrificato un corno viene preso e tagliato all'interno c'era unzione venne riversato su Davide amén se non sale sacrificio non scende unzione dillo se non sale sacrificio non scende unzione Dio ci ha chiamati ad essere profeti re e sacerdoti amén ma queste funzioni devono operare nell'unzione che lui già ha provveduto e Dio ti sta dicendo stamattina la tua resa la tua resa è vitale la tua resa è importantissima è fondamentale affinché l'unzione si possa riversare su di te e manifestare attraverso la tua vita amén quindi questa è la prima lezione che impariamo prima che Davide viene unto da Samuele c'è un'offerta meglio dire c'è un sacrificio se non c'è sacrificio non scende unzione amén dillo se non c'è sacrificio non scende unzione se tu pensi che fino adesso hai fatto sacrifici sappi che non hai fatto niente perché dove c'è sacrificio c'è unzione e dove c'è unzione c'è il soprannaturale c'è il soprannaturale attraverso la tua vita dillo attraverso di me si manifesta il soprannaturale ma cari miei oggi se noi siamo uniti è grazie al sacrificio perfetto che Gesù l'agnello di Dio ha fatto per noi amén l'agnello di Dio ha offerto per noi allora Samuele prese il corno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli da quel giorno in poi lo spirito dell'eterno investì Davide amén cioè è come se per capire investire è come se nel naturale fai un incidente bum una macchina la trovi la trovi la prendi di faccia bum amén quando sei investito dallo spirito di Dio tu sai che sei stato investito dalla sua potenza soprannaturale amén da quel giorno in poi non prima ma da quel momento dal momento che Samuele lo unse lo spiro dell'eterno lo investì amén ora cari non tutti né tutte le cose vengono unte amén vengono unte i figli amén perché Dio gli dà un'abilità per muoversi nel potere soprannaturale dillo perché Dio mi dà un'abilità per muovermi nel potere soprannaturale ora l'unzione è importante l'unzione è utile dille l'unzione è importante è utile sapete per chi? per quelli che conoscono il proposito di Dio se tu non sai il proposito di Dio per la tua vita a te non serve l'unzione non ne hai bisogno l'unzione ma quando tu sai quello che è il proposito che Dio ha preparato per te tu hai bisogno di unzione ma voglio chiarirvi questo Dio ha un proposito per ogni suo figlio dillo Dio ha un proposito per me ora voglio farti una domanda e sti sincero quanti di voi conoscete il proposito di Dio per la vostra vita alzate le vostre mani quelli che non lo conoscono è buono che tu inizi a cercare Dio per capire quello che è il proposito di Dio per la tua vita lui non te lo vuole dare tra vent'anni lui te lo vuole dare adesso tu hai bisogno di conoscerlo adesso perché se tu non sei il proposito tu non puoi funzionare non puoi muoverti nell'unzione perché l'unzione ti sarà data per fare che cosa? adempiere un proposito dirlo adempiere un proposito amén hai bisogno di conoscere il proposito amén pace a tutti buonasera domenica scorsa a fine culto la pastora vede una parola specifica un attimo disse qui c'è una persona che stasera ha il fuoco di Dio nelle parti intime e io posso testimoniare come domenica scorsa stavo venendo meno nelle gambe per il fuoco di Dio che c'era su di me e come so che aprile ho avuto queste operazioni nelle parti intime e solo mia moglie mi era accanto e sa quanto ho sofferto per questo problema poteva indirizzare la mia vita in un modo negativo con sterilità problemi alla prostata e quant'altro grazie a Dio questo problema ora è solo un ricordo gloria a Dio grazie a Dio a las naciones llevandolas a lo sobrenatural sobrenatural una revolucion sobrenatural 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 so se senti